adesso vediamo in questo video l'applicatore la serie 810 per contenitori con superficie piana in questo caso abbiamo preso una bottiglia quadrata che potrebbe essere una bottiglia di vino una bottiglia di olio o qualsiasi altra diciamo liquido diciamo allora la difficoltà è sempre quella riuscite ad applicare in maniera semiautomatica un'etichetta sul superficie piana in questo caso l'applicatore che fa abbiamo prestampato noi delle etichette scorre direttamente sulla superficie piana e tramite la parte sia di spellicolatura e questa rotella accompagna la spellicolatura dell'etichetta lungo l'asse della bottiglia con questo applicatore possiamo applicare varie tipologie e misure dei contenitori perché abbiamo delle guide sia in larghezza che in altezza che tutta la parte di spellicolatura facilmente può essere regolato verticalmente adesso vediamo il funzionamento utilizziamo lo start o il pedale indifferentemente vedete scorre l'oggetto scorre durante la spellicolatura vedete anche la velocità inoltre posso anche regolare la pressione perché in questo caso io ho del vetro ma se avessi un contenitore plastico io posso regolare la pressione che fa la rotella sull'oggetto adesso vediamo con la stessa etichetta andiamo a autorizzare un contenitore in questo caso plastico con una forma di denti in questo caso per la detergenza io ho spostato le guide in modo l'alloggio perfettamente premo il bottone applico l'etichetta come vedete applicato correttamente quindi avete necessità di un applicatore sia in modo automatico per superfici piano in questo caso bottiglie quadrate o rettangolari potete contattarci i nostri riferimenti questa è una soluzione sia in automatica ma caratteristica industriale inoltre avendo il sensore ad ultrasuoni può spellicolare facilmente si etichette diciamo con un gap normale per cui c'è il contrasto tra l'unichetta e l'altra ma anche etichette trasparenti